ok ragazzi eccoci qua siamo tornati su minecraft mi ha dato finalmente di cenderbord possiamo tornare a casa torniamo a casa ragazzi a battere il drago ho messo anche lo scudo ho messo anche lo scudo Torniamo a casa così facciamo le blaze e andiamo ad attivare il portale. Ok. Ci facciamo un po' di cibo oppure questi non bastano con me. Anche se ho già le bistecche qui. Ok. 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 Grazie. Ok siamo quasi arrivati. Grazie. Perfetto. Andiamo a fare le blades powder. Mender eye. Dieci. Perfetto. Dormiamo un attimo. Perfetto. 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 Eccolo dove ho messo il libro da Mening. Perfetto. 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 Perfetto.